Si chiama Tina Candelacchi, è una bellissima showgirl russa, è una star in piena regola, infatti ha più di 3.200.000 follower su Instagram e è pronta per, diciamo così, trasportarsi in altre piattaforme. La donna infatti ha scritto attraverso Instagram un post in cui ha scritto testuali parole, Instagram sta chiudendo i battenti, seguitemi negli altri miei social e li ha elencati, ossia per l'appunto VK, VK, Telegram ed infine Yappi, un social network nuovo. Tutti e tre i social network la donna è iscritta in questi tre e chiede di essere appunto eseguita per che instante chiudere i battenti proprio in Russia, territorio belsaiato, territorio protagonista di questa guerra contro l'Ucraina. Il video termina qua, iscrivetevi e commentate, ripeto la donna si chiama Tina Candelacchi, cercatela sul web, è veramente bella, sexy, affascinante, conta 3 milioni e passa di follower su Instagram, su IG. Iscrivetevi e commentate, caro ciao a tutti dal vostro Leandro, un narratore italiano. Grazie a tutti.